Sta continuando a lottare roba Sì, sì, lo vedo Sta scegliendo cosa prendere, cosa non prendere Cosa posso usare per distruggere tutto Vediamo se c'è un RPG, anzi sì c'è perché stavano faitando Che poi lui è fuori e tu sei fuori, giusto? Quindi dovreste riunirvi qui di fronte Finalmente ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a scoprire che cosa succede quando un airdrop cade sul trampolino Esattamente In questo momento state vedendo delle immagini già registrate Perché farlo in un video era davvero impossibile Eravamo maledetti, lo sapete benissimo Esatto, quante volte ci abbiamo provato? Non lo so, vi basta pensare che anche per registrarlo fuori dei video Ci abbiamo messo una vita Davvero una vita Questo game è stato fantastico Perché è successo di tutto Eravamo costantemente lontanissimi dalla zona Fer era appena morta come potete vedere da in alto a sinistra Eravamo tutti e due disperati Correndo tutto il tempo eccetera eccetera Ma io in questo momento avevo un trampolino E lì di fronte a me c'era un airdrop Player alla destra Player di fronte a me E io che correvo dritto Senza paura dicendo Posso morire, posso perdere il game È il momento Ma dobbiamo scoprirlo È il momento, sì E quindi lì Che come un eroe corre Corre, corre Sperando, vedete In questo momento avevo visto dei player lì sopra E avevo fatto No, se mi vedo nella fine Se mi vedo nella fine È qua che continuavo a sperare di arrivare in tempo Esatto Perché comunque stava per cadere E adesso ci siamo State per scoprire cosa succede È stato Fa molto ridere Perché cioè sei lì in mezzo Tra diversi fight Tu che pensi Guardate A fare questo Guardate A fare questo Qua avevamo già realizzato Sì, esatto Penso che avrete realizzato Poi vi ho deciso di piacciarlo lo stesso Si è incastrato anche lì Che è stata proprio la goccia Che fa traboccare il vaso Completamente Però poi guardate un po' Lo manca Lo manca tantissimo Lo manca E abbiamo anche capito il perché Cioè penso che sia ovvio È sistematico Esatto Cade sempre Se noi abbiamo una struttura Cade sempre negli angoli Di conseguenza Vabbè Mi ero ricordato anche di come era andata a finire Esatto Dicevo di conseguenza Non si può in nessun modo farlo Quindi tutti quei tentativi che abbiamo fatto Erano inutili E non servivano a nulla Pensate la nostra reazione De scoprirla È stata una roba terribile No ma poi c'è infatti Piazza il trappolino Vedi che sta solamente al centro del quadrato Mentre l'airdrop cade sui lati Quindi in nessun modo Anche facendo altre piattaforme È possibile farlo realmente cadere sopra E noi lì Cioè ci si è spezzato un cuore Credo Sì Questo è uno di quei momenti Che ti fa spezzare il cuore Assolutamente In onore dell'airdrop Che non ha funzionato Nel trompolino Questo oggi vinceremo un game Senza ombra di dubbio No non si dice mai Perché poi si perde No 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 noi andiamo a vincere Fere Oh 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 Pompablu Hai visto gente? Qui c'è qualcosa di viola No non ho visto nessuno Ok Oh cavolo cavolo Sto missando No ce l'ho fatta Ok perfetto Cos'era di viola Fere? Non lo so salgo su e controllo Ok Ho visto qualcosa di viola totalmente Fammi vedere Ah Cos'era? Trampolino Sono seria Sono seria Non sto cacciando Ti vogliamo bene anche noi trampolino Ci hai fatto un po' impazzire Per riuscire a fare una cosa Che era inutile Esatto Però ti vogliamo bene lo stesso È sempre un piacere ritrovarti Esatto Chest Allora qui c'è anche un pompa verde Ti serve? Te lo prendo? No ce l'ho grazie Ce l'ho blu Vabbè Vabbè Perché Steph è pro Sono sceso proprio su un pompa blu Perché Steph è scarso Musica Allora, quanto siamo lontani Ci tocca pure passare dalle paludi Ma io non ci posso credere Oggi è tutto un correre Cioè, di solito poi con i magazzini in cui scendiamo Ci sono sempre persone Quindi almeno un bel fight iniziale Lo so, lo so, lo so Ci tocca pedalare Vabbè, la chiameremo la pedalata della vittoria No? Cioè, alla fine stiamo correndo Abbiamo fatto la vittoria scendendo per ultimi Magari correndo si può vincere lo stesso Correndo e arrivando per ultimi nelle zone Mi sento le mani fredde E mi sento freddo per sparare Perché non ho neanche mirato qualcosa Adesso mi roghi alberi, così mi riscaldo C'è arrivato il pranzo cinese Che nell'altra stanza io sto morendo di fame Quindi capito, sto pensando solo a mangiare E ho le mani fredde, ho fame Quindi anche lo stomaco freddo E sono molto triste 28 player vivi Quindi muoviamoci, Steph Che qui dobbiamo prendere E costruzioni Erano andati lì per il granchio di sicuro Ok, lì c'è una scala Anche perché gli manca una zampa Quindi sì, sono andati per farlo Ah, povero granchio Sì L'hanno torturato, lo hanno Sì, sicuramente Non ho mai visto un game che chiude qui Manco io Cioè, guarda Metà del cerchio nuovo è fuori E quindi adesso c'è non... È la fine È proprio la fine del game questa Perché si dimezzeranno Di certo non si può stare in acqua Quindi Occhio, Steph Perché ci arriveranno player correndo ora Lo so Lo so E sei felice? No Per niente Per niente Per niente Non c'è colpi Non abbiamo nulla Non posso essere felice di fai dare Però andiamo in quella collina lì Che secondo me è pretty good Secondo me è pretty pretty good Se riusciamo a metterci lì al volo Hai delle trappole? No, purtroppo Neanche io Ho trovato manco quelle Era una povertà oggi quel posto Guarda E io chiedo E dai Ci è andata proprio male No, giusto perché volevo mettere delle trappole Sulle scale che noi stessi facciamo In modo tale che la gente non ci salga Poi nella nostra stessa base Solo un trampolino ho trovato Lo so Andiamo Ok Questa collina è fantastica Perché ha pure il dislivello Quindi ci possiamo pure coprire facilmente dagli altri lati Mi piace un botto Mi piace un botto Io vi faccio la mia costruzione qua Va bene Qui in alto Così siamo anche abbastanza separati E abbiamo più visioni in più posti Ok Va bene Va bene Va bene Da dietro di noi non so se sinceramente può arrivare qualcuno Perché ce l'avamo noi Ok Però ho visto che non si sa mai E infatti mi sa che ho visto qualcuno Davvero? E mi sa che sì Eh cavolo Lo so Ok Ok Io ci sono Io ci sono Bene o male così alta dovrebbe bastare Perché la collina è già molto alta Quindi comunque ho tanta visione Vediamo un pochettino Vediamo se l'ho visto bene Poi sicuramente abbiamo anche attirato l'attenzione costruendo Eh Sì 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 Però abbiamo il miglior punto della mappa Quindi non me ne fregava nulla di attirare l'attenzione Sì 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 Va fatto così Siamo ancora in 20 vivi Allora lì giù vedo un airdrop Sì confermo player Eh 195 Due che stanno correndo Ok E io mi sa che provo a sparare Ah li vedo Eh ma sono molto lontano Pronta Stanno sparando qualcun altro Fere Qualcun altro qui sotto Steph A 255 Io provo a sparare anche questo I datto una terra C'è solo un amico Dov'è l'altro? È sotto la collinetta Non riesco a prenderlo È qui sotto Qui sotto Steph A ovest Proprio sotto la collinetta Non ha ben capito da dove gli arrivavano i colpi Solo che proprio sotto una collinetta Non riesco a prenderlo Ok Cavolo mi ha sniperato Steph Ma perché ti Ma perché ne è arrivato un altro È più di persone E non mi rompere Porca miseria Ma dov'è? Sono qui sotto Ok Si stanno fightando i due team Li vedi? Sì Questi stanno scappando E quelli corrono Ho visto C'è un pazzo che corre dritto No Steph Ce ne sono altri a 330 Lo so Abbiamo tre team Siamo totalmente In qualche modo A scendere sì 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 No il fatto è che Ci siamo messi male Non posso aprire la porta? Perché non posso aprire la porta? Ma la dovresti aprire tu forse? Vai Ok grazie Ma timide Eccomi Allora Aspetta che sto controllando Che non ci venga addosso qualcuno No allora li ho visti fightare con gli altri che scappavano verso destra Ok silenzio Sentiamo il pazzo Meno male che c'è il medikit guarda Eh sì Meno male che c'è il medikit Siamo 14 vivi Senti che Allora iniziano Ora iniziano i fuochi di artificio Tieni questi due va Grazie Cavolo Eh no Steph Siamo circondati Cioè mi dici Spara uno Ma arrivano gli altri Non ti ho detto di spararlo Mi ha detto spara 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 Poi inizi tu Inizio anch'io Allora Lì c'è un airdrop E nessuno ha avuto il coraggio di prenderlo Pensate alla situazione Lì c'è gente Perché non c'è il cecchino Era il game perfetto da cecchino Questo Ok quello lo vedo Non mi voglio mettere in troppi fight Dimmi È vergognoso Tutti i team che ci sono Lo so Lo so Noi restiamo qua Fino a che non finisce tutta la rissa Eh sì Eh sì Uno è sotto di noi Quanto sotto? Sotto Ok Ah qui sotto Ok Prova una sniper Allora mi da l'altro lato Ok Ferre non ti esporre Ok Facciamo così E vediamo se ci arriva No vado dall'altra parte Steph Cioè non Non fa Cioè poi io ho pochi colpi Quindi non posso nincestare lì A bucare le costruzioni altrui Lo vedo Da dove hanno provato a sniperarmi piuttosto? Non lo so Arriva Dove? Sopra di me Eh Uh qui sopra Qui sopra Ok l'ho visto Mi sta venendo addosso Steph è qua L'ho colpito un botto di volte È morto? Io sono a dieci di vita Cavolo Un po' di colpi Colpi No stiamo messi malissimo Non mi piace Eh Non aveva cure Niente vero Cillini cillini Li vedi lì per terra? Ma che me ne faccio? Sono da dieci di vita Tirateli Tirateli E me li tiro sì Non abbiamo niente un campfire nulla? No Niente Ok No non mi piace essere così messa a mano Cosa vuoi? Eh lo so E quindi non mi piace Vedo altri player Stai giù eh Non devi essere sparabile No 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 Ho un piano Ho un piano Fede Ma che piano? Dieci di vita Ho un piano Ti fidi di Steph? Mi sta venendo un esaurimento oggi È fastidiosissimo Ti hanno fatto i capelli? Eh sì 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 C'è un tipo in una torre Allora siamo mirati da chiunque Steph Non abbiamo un cecchino Cioè È bruttissimo sto game Lo so Lo so ma Siamo i nove vivi però eh Non siamo più in tanti E Steph comunque ha le sue due kill Che lo mettono In una situazione di abbastanza felicità Vedo player lì Anzi ogni volta che mi affaccio vedo player diversi Se devo essere proprio onesto All'air drop qualcuno lo prova a prendere No vero? Ok ne ho visto anche lì giù a nord Nelle casette A fianco all'air L'altro l'hanno preso Li vedi quelli che corrono? I maleducatoni? Io quelli lì li smitraglierei Perché mi stanno sulle Cioè mi stanno tipatici Abbiamo capito Abbiamo capito Ok Itat una volta Occhio non ti esporra Che quelli sono quelli col cecchino Quelli sono quelli col cecchino Sono dentro No sto cercando infatti di vedere Ovviamente senza espormi Eh però sì sono dentro loro Noi possiamo solo sperare di scendere qui sotto No Aspetta Aspetta Lo facciamo all'ultimo Non so verso dove andiamo Ok? Eh però dimmelo prima Che poi ci separiamo Io volevo che qualcuno si faitasse Ma gliele stanno distruggendo Guarda Guarda Ok Quindi stanno faitando in questo momento Andiamo Sono impegnati Sì Dove andiamo Steph? Alla cascata Fere Che cascata? Non le capita la battuta Ok Ok che stai panicando però Che battuta doveva essere? Era terribile Io vorrei quella airdrop Anche io Lo sai che ne abbiamo bisogno Oddio mitragliano Ma lì Ma voglio mitragliare anch'io Stanno bucando lì Stanno bucando quelli che a noi stavano antipatici Capisci? Ok Stette vivi Bene Uno di loro mi sa che Uh lo vedi quello? Sì che lo vediamo Una terra Ok C'è l'amico dentro la costruzione e basta Non può fare praticamente nulla Eccolo Prova a prendere l'airdrop Ok Sì È sceso occhio eh Viene da me? Eh non lo so Penso sia andato dall'amico Sinceramente perché è dietro la collina Io non lo vedo da qui Capisci? L'hai trovato? Che schifo Sta costruendo Steph Occhio che ti vede Occhio che ti vede Al cecchino in mano Però non ti stava mirando Stava costruendo in metallo Sicuramente sta portando in vita l'amico adesso Ok Eh sì Vediamo se posso fare qualcosa Eh no non rischio Sei vivi Di cui due noi quindi Torno da te Qui due lì Qui di quattro Ma con gli altri due Siamo in sei siamo in sei Allora gli altri sono lì giù che si mitragliano Quindi evidentemente sono uno e uno Giusto perché siamo due Due l'altro team E questi sono uno e uno Credo di sì Si stanno lanciando missili Quindi per favore sono uno e uno Credo che questi qui siano gli unici ad essere in due E uno a trenta di vita in questo momento Sì 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 Però loro sono fuori E noi siamo fuori Resta comunque giù eh Perché ci stavano guardando anche a noi Ah lo so Cadono a un'area troppo vicino Ho il dubbio se quelli alla destra sono insieme o meno Questo qua mi sta mirando col cecchino tutto il tempo Ma quelli là non sono insieme Guarda lì si stanno mitragliando Sono uno e uno E infatti a me mirano questi altri due Questi altri due stanno pensando solo a noi ormai Ma quali questi due di fronte? Questi due di fronte No abbiamo anche questi Steph Fare questi due a ovest ci stanno solo guardando col cecchino Ah no certo Però gli altri sono uno e uno Ma degli altri non mi frega nulla Perché si sparano tra loro Sono questi il problema Perché anche questi ci possono venire da questa parte Steph sono fuori eh Che fai? Uno giù Bravo Lo so È grandioso Non so dove è l'amico Eh dovremmo muoverci Steph la zona La zona Morto Ok ho visto Siamo in quattro Cosa è successo? Cosa è successo? Forse di zona fare No la tempesta Steph Ha talmente tanto danno che mi ha ucciso Io ero basta di vita Ok La zona Sì La zona Uno è lì Infatti mi sta distruggendo Aspetta L'ultimo non mi ha visto Io so dov'è l'ultimo Sono uno contro uno So dov'è Ok ok Bravo Lo vedi? È in quelle costruzioni Che sta lutando l'altro Quindi è full equipaggiato Io sono Nello schifo Ovviamente Sta continuando a lutare roba Sì sì lo vedo Sta scegliendo cosa prendere Cosa non prendere Cosa posso usare per distruggere tutto Vediamo se c'è un RPG Anzi sì c'è Perché stavano fai tanto Tu sei fuori giusto? Quindi dovreste riunirvi qui di fronte Sì Difficile Lo so Cavolo avrà sicuramente l'RPG Guardalo corre Lo so Sa dove sei? No Ok Però non so come posso Avere vantaggio da questa situazione Non senza un cechino Sono d'accordo E lui ha l'RPG E sa dove sei A quanto pare sì Vabbè per logica Più a meno sapeva che la zona era qua Ma non ne hai? No Cavolo io ne avevo parecchi Però sono morta fuori dalla zona Colpito in testa Bravo Anzi non era testa Perché non gli ha fatto il crit Eh vabbè colpito Esatto Va bene Va bene lo stesso Sei emozionato È preoccupato il tipo Io ho 80 di ma Non ho legno Non ho mattoni Ma dai Occhio occhio E ma sei proprio antipatico però Prima o poi gli finiranno I missili Accidenti Ok Ok Usa le collinette infatti Ok Arriva da quella parte Lo vedi? Dovresti castruire Ok Sì 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 Porca miseria Io ero zitto Manicata Bravo Per un attimo Come hai fatto senza mazzi Con il quipaggimento che fa schifo Steph Come hai fatto? Per un attimo l'ho visto Con quell'RPG in mano E ho fatto Mo esplodo Anche perché lui non aveva scille L'avevo evitato tre volte Ma non riusciva a dargli l'ultimo hit Non avevo neanche bisogno Di rischiare sto fight Però non avevo pochi mazzi Bravo Bravo